Dopo l'esperienza del Kurdistan ci spostiamo dall'altra parte del mondo e lo facciamo insieme a Fabrizio Lorusso. Infatti ci spostiamo adesso in Messico per vedere un'altra faccia del conflitto, quello della guerra sussia, quindi della guerra sporca, di una guerra a bassa intensità che non viene combattuta con i bombardamenti come avviene in altre zone del mondo, ma che viene combattuta in modo molto più subdolo. Infatti quella che è la strategia del terrore del governo messicano si fonda su sparizioni forzate, su omicidi politici che vengono camuffati sotto la maschera della lotta al terrorismo, la lotta al narcotraffico, la lotta all'immigrazione clandestina. In realtà questa strategia del terrore che viene perpetrata dal governo messicano insieme ai grandi stati e alle grandi potenze internazionali, è una guerra, una strategia del terrore che viene portata avanti proprio per destabilizzare anche quelli che sono i movimenti sociali messicani e per tagliare le gambe a chi quotidianamente cerca di opporsi a quelli che sono i crimini portati avanti dal governo messicano e cerca di cambiare il Messico dal basso. Proprio di questo vogliamo parlare insieme a te. Cosa sta succedendo adesso in Messico rispetto a questo conflitto a bassa intensità e qual è poi la risposta dei movimenti sociali che noi come Associazione Ia Bassi di Bessè da sempre camminiamo al fianco? Grazie intanto. Sicuramente il Messico ufficialmente, il governo messicano cercano di creare un'immagine differente dal Messico reale, in genere l'azione di tutti i governi, però quello messicano ha avuto un momento di spartiacque tremendo in cui il discorso ufficiale di un paese che per i primi due anni di governo aveva avuto un nuovo boom turistico, stava avvicinandosi nuovamente, probabilmente per la decima volta nella storia recente che lo dichiarano in questo modo, allo sviluppo, al primo mondo, agli Stati Uniti, eccetera ha vissuto un momento di spartiacque con la sparizione dei 43 studenti, la sparizione forzata la desaparizione forzata, come si dice in spagnolo, dei 43 studenti di Aiozinapa in realtà è un fenomeno che è scoppiato perlomeno negli ultimi dieci anni ma che risale, quello della sparizione forzata messa in atto da forze legate agli apparati statali e dalle stesse autorità con la loro connivenza o la loro partecipazione diretta, è una strategia antica risale almeno in generale all'epoca nazi, all'epoca nazista in Europa, scusate mi viene fuori qualche parola in spagnolo ancora sono appena ritornato, però poi alle dittature del cono sud e all'epoca della guerra sporca in Messico che è stata al pari delle dittature nel cono sud, in Messico c'era un regime autoritario a partito unico, a partito egemonico che era il PRI, partito rivoluzionario istituzionale, che è una contraddizione negli stessi termini però così si è chiamato e così si chiama tuttora, che insieme alle forze di sicurezza, ai paramilitari a delle forze di controinsurrezione, ha stabilito questa strategia di repressione dei movimenti sociali dei movimenti guerriglieri, soprattutto nello stato del guerrero e ha fatto un numero stimato di circa 500 desapparecidos quando scuciamo questa parola pensiamo subito all'Argentina, al Guatemala, alla Colombia e magari meno al Messico, però anche in quell'epoca negli anni 70 un'epoca di movimenti sociali, di rivoluzioni che chiedevano in realtà almeno un'apertura democratica se non il cambiamento del sistema, però ecco venivano appunto stroncate dalla notte di Tlatelolco, che è quella del 2 ottobre del 68 con la mattanza di 300 studenti o 500 studenti a seconda delle fonti in piazza da parte dell'esercito è iniziata una guerra che si chiama di bassa intensità contro i movimenti sociali che è fatta appunto di paramilitarismo, di attacchi alle comunità e che vediamo tuttora e cosa è cambiato agli anni 70 ad oggi? perché ancora oggi sentiamo parlare del problema dei desaparecidos in Messico dei desaparecidos come politica di Stato quando da altre parti, perlomeno sulla carta, ufficialmente è una politica che è stata abbandonata o è un termine che non si ascolta, diciamo non si sente più nello stesso modo perché, e c'è anche un testo interessante che si intitola proprio così si è passati dalla guerra sporca degli anni 70 alla guerra al narcotraffico che però nasconde delle dinamiche molto molto simili alla guerra sporca la guerra al narcotraffico è stata lanciata l'11 dicembre 2006 dall'allora presidente Felipe Calderon che è arrivato al governo con una legittimità sotto le scarpe praticamente a zero dopo mesi di proteste e dopo un molto probabile broglio elettorale massiccio ai danni del candidato delle opposizioni diciamo di centrosinistra potremmo chiamarlo Andrés Manuel Lopes Obrador tra le sue politiche di legittimazione appena preso il potere ha scagliato una guerra così dichiarata quindi una vera e propria battaglia messianica e anche militare stato per stato in tutto il Messico militarizzando il paese con l'obiettivo di ridurre il consumo delle droghe e di distruggere i cartelli del narcotraffico obiettivo chiaramente mai raggiunto anzi in realtà dieci anni dopo con il suo successore Enrique Pegnanieto di un altro partito, l'ex partito egemonico il PRI che aveva governato praticamente per tutto il novecento e ora è tornato al potere nel 2012 la politica di militarizzazione di un problema che se proprio lo vogliamo vivere in questo modo è di salute pubblica al massimo è vissuto invece come un problema di sicurezza chiaramente una politica mutuata dagli Stati Uniti dalla visione nordamericana del problema a partire già dall'epoca di Nixon che fu il primo in realtà a lanciare la guerra al narcotraffico così come la conosciamo oggi la guerra alle droghe e continua Pegnanieto che arriva nel 2012 con questa politica ma cambia la retorica cambia il discorso perlomeno e crea questa narrativa di un paese moderno del paese che solo può vincere del paese che anche il Time definisce come un paese vincitore che sta decollando verso lo sviluppo economico queste propagande che durano quei due o tre mesi che poi finiscono lì il governo ha cercato di prolungarla anche attraverso le ambasciate attraverso un'azione diplomatica forte delle ambasciate sui mass media internazionali e diciamo il castello in Messico in realtà è durato veramente poco anzi è solamente la fiammata elettorale in cui ha potuto vincere grazie alla compravendita dei voti con una buona differenza rispetto al candidato che era oppositore che era ancora Andrés Manuel López Obrador ecco a parte quella fiammata il Messico non ha creduto per molto tempo alla retorica governativa almeno questa è la mia percezione da lì e il resto del mondo sicuramente di più fino a che la notte del 26 settembre del 2014 avviene un fatto che è lo spartiacque non solo del governo ma è lo spartiacque per molti movimenti sociali organizzati in Messico e per la popolazione in generale ma anche per il mondo perché alla fine militanti o no attenti alle questioni messicane o no la questione degli studenti di Agliozzinapa ecco è riuscita più o meno a penetrare non solo nelle cronache ma anche diciamo così nelle discussioni, nei dibattiti praticamente a livello globale e la notte del 26 settembre ha segnato appunto lo spartiacque perché? perché ha dimostrato che esisteva una continuità tra le politiche repressive di Stato c'erano agenzie di Stato preposte alla politica repressiva come la Direzione Federale della Sicurezza la DFS per esempio o polizie segrete eccetera ha dimostrato una continuità prima di tutto a partire dallo Stato dalla regione in cui c'è stata questa sparizione forzata messa in atto dalla polizia locale con la partecipazione diretta e indiretta il che è condannabile a livello internazionale e va ricordato delle polizie a tutti i livelli cioè non solo le polizie che dipendono dal comune non quelle che dipendono dallo Stato del Guerrero che è lo Stato meridionale in cui è successo ma anche le polizie federali e l'esercito che invece si dipendono dal governo centrale e dal presidente in quanto capo delle forze militari e quindi a tutti i livelli c'è stata una partecipazione negata chiaramente subito dal governo e una operazione repressiva durata dalle tre alle quattro ore non c'è stata una sparatoria non c'è stata la repressione di nessuna manifestazione come si è fatto credere e quindi non riesco ora chiaramente a parlare solo di questo caso e approfondire però il profilo degli studenti che quella notte avevano preso avevano occupato e stavano portando via alcuni autobus nella città di Iguala e che poi sono stati attaccati da tutte le forze di polizia lì presenti sequestrati e consegnati probabilmente a diversi gruppi della delinquenza organizzata ma anche a poliziotti di altre città coordinati insieme a loro queste sono tutte cose che sono emerse negli ultimi due anni perché all'inizio la versione che si raccontava forse c'erano più dubbi su questo non si capiva bene cosa fosse successo ma da subito è apparsa chiara la partecipazione diretta e indiretta di una serie di apparati statali e questo è un crimine di lesa umanità e così probabilmente solo nelle istituzioni internazionali e come verrà processato è forse un giorno in qualche modo chiarito perché le istituzioni messicane la procurazione come si chiama in Messico di giustizia l'amministrazione della giustizia è stata totalmente parziale nel caso e lo hanno segnalato non solo i giornalisti e gli attivisti ma anche gruppi internazionali di esperti l'ONU e le commissioni interamericane dei diritti umani eccetera quindi la continuità con la guerra sporca negli anni 70 esiste stavo dicendo perché gli studenti di Ayotzinapa sono ben noti nello stato del guerrero ma in generale per la loro militanza politica per la loro vicinanza ai movimenti popolari anche ad alcune polizie di autodifesa comunitarie alle guerriglie degli anni 70 a Lusio Cabanias fondatore del partito dei poveri il partito dello Spobres negli anni 70 un altro movimento politico che poi dovette trasformarsi in movimento armato e quindi erano politicamente identificati tant'è che a Iguala sia prima che dopo la desaparition dei 43 si parlava di loro con un tono dispregiativo gli Ayotzinapos come li chiamano cioè un termine più dispregiativo per indicare che sono dei rivoltosi e questa è la versione che il governo in qualche modo ha cercato di far passare attraverso la stampa fedele al governo come il quotidiano, il giornale millennio le principali televisioni però è stata costruita un'altra verità che ha cercato di spiegare i fatti di intervenire e di creare una coscienza parallela a quella del governo che ormai è sempre più delegittimata io credo che almeno all'estero in ampli settori della società messicana non è passata così come volevano non è stata chiarita la responsabilità di tutti gli attori non ci sono i responsabili i ragazzi continuano ad essere ancora oggi desaparecidos e lo Stato ha dimostrato di non aver voluto investigare alcuni fattori che ad oggi si segnalano intorno ai genitori di Ayotzinapa è nato un movimento nazionale l'Assemblea Nazionale Popolare e movimenti legati ad Ayotzinapa molto imponente che continua tuttora e sta chiedendo per esempio di indagare sui tabulati dei cellulari dei 43 studenti sono partite chiamate dopo il loro sequestro e il governo che recentemente è al centro di uno scandalo perché ha intercettato mail e comunicazioni di giornalisti, attivisti e politici durante anni questo governo capace di comprare per milioni di dollari a imprese italiane come la Hacking Team o a imprese israeliane che producono il Pegasus o Pegasus che sono appunto dei software che intercettano gli attivisti e questo è il caso del momento in Messico che è scoppiato è un governo che è capace come procura la procura della Repubblica perché sono le uniche istituzioni autorizzate a comprare da queste imprese le imprese lo dichiarano solo possiamo vendere a governi ecco un governo di questo tipo non è stato capace di indagare sui tabulati dei 43 studenti che hanno registrato le chiamate dopo il 26 settembre per esempio che tipo di legittimazione può mai avere appunto un funzionario pubblico che esce a raccontare una storia del genere no? e il ruolo dell'esercito nella questione appunto della sparizione dei ragazzi a Yotzinapa dopo a Yotzinapa già prima c'erano i movimenti di desaparecidos e di familiari ma ha ripreso forza la tematica e la problematica perché non si parla più di 500 sparizioni forzate come era nell'epoca degli anni 70 ma di 32.000 e questa è la cifra del giugno 2017 32.000 persone desaparecidas cioè in cui con un alto livello con una buona probabilità c'è stato un intervento statale nella loro sparizione o la collusione con gruppi privati o del crimine organizzato che per diverse finalità ora sì non solo più politiche ma in qualche modo anche geoeconomiche strategiche già di di differente tipo ma riconducibili comunque a una finalità di controllo sociale appunto il crimine organizzato opera anche in questo tema delle sparizioni forzate no? non so coi tempi come siamo però più o meno il il punto è che non c'è la percezione in Messico del conflitto è un conflitto sedato sedato dai mass media che però oltre ai 32.000 desaparecidos ha già prodotto ed è brutto parlare solo di numeri perché si tratta di vite di casi eccetera però 200.000 morti praticamente in 10 anni per omicidio doloso un tasso di omicidio triplicato negli ultimi anni e nonostante la retorica del presidente Pegna Nieto è un problema che stava diminuendo nei primi anni di governo ma che è riesploso nel 2016 e nel 2017 magari lascio dopo per un commento in seguito la situazione drammatica da conflitto come in Siria in Iraq in Palestina eccetera dei giornalisti e degli attivisti in Messico magari ne parliamo dopo sul tema dei muri però grazie